Presso il laboratorio di circuiti elettronici di potenza e fonti rinnovabili, si svolgono attività di ricerca che riguardano l'ottimizzazione di circuiti elettronici di potenza per applicazioni nei settori fotovoltaico, dei sistemi di illuminazione a LED, del controllo delle batterie e in generale per la massimizzazione dell'efficienza energetica, nonché allo sviluppo di software di progettazione, simulazione e diagnostica. Il laboratorio è da anni sede di consolidate collaborazioni industriali, con industrie di tutto il mondo, fra cui National Semiconductor Corporation, compagnia americana che ha sede in Santa Clara, California, ST Microelectronics, Magnetec, elettronica Santerno, Roal, Astrid Power One. Le aziende che finanziano le attività di ricerca del laboratorio sono interessate prevalentemente allo sviluppo di circuiti elettronici e sistemi software e hardware destinati allo sfruttamento ottimale di pannelli e sistemi fotovoltaici e dell'integrazione di diverse tecnologie per il risparmio energetico. Oltre alle attrezzature di calcolo per la simulazione e la progettazione, in questo laboratorio sono disponibili attrezzature per la realizzazione di prototipi di circuiti elettronici ed apparecchiature di misura di altissima qualità e precisione necessarie per i test sperimentali. In questo laboratorio le attività di didattica si fondono con le attività di ricerca. Gli studenti, sia nell'ambito dello svolgimento della tesi di laurea che nell'ambito di formazione post laurea, attraverso l'erogazione di borse di studio, assegni di ricerca e contratti di ricerca, sono coinvolti attivamente nelle attività di ricerca e maturano conoscenze e competenze approfondite sulle tecnologie sviluppate, grazie alle quali conseguono un rapido e altamente qualificato inserimento professionale presso le aziende, sia in ambito nazionale che internazionale.